TG Tech, TG Tech, l'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia in collaborazione con ItaliaTapgames.it Ciao amici di Simpli Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 16 grazie alla collaborazione del network di ItaliaTapgames.it ecco a voi le tre notizie più cose della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia e alla fine è da aspettarvi, c'è sempre un super regalo per uno di voi all'ascolto. Questa settimana il regalo è un buono da 25 euro utilizzabile su Amazon.it con cui acquistare qualsiasi prodotto presente nello store online come videogiochi, controller, libri, DVD e tutto quello che volete. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco correte sulla home page di italiatapgames.it e poi è veloce a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione troviamo Monster Gems Showdown. Il nuovo videogioco ufficiale in Monster Gems sarà disponibile il 29 agosto 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie X ed S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam ed Epic Kingstone. L'accesso anticipato si sbloccherà tre giorni prima, ovvero il 26 agosto. Monster Gems Showdown porterà i giocatori a gariggiare anche nella Valle della Morte e nella fredda Alaska offrendo un vasto pacchetto arcade con un totale di 10 diverse modalità di gioco. Su italiatapgames.it il travel completo e tutte le informazioni ufficiali sul videogame. In seconda posizione troviamo invece Top Spin 2K25. Questa settimana è stata infatti svelata la colonna sonora completa dell'attesissimo nuovo capitolo della saga di tennis. La colonna sinora include brani di artisti di fama mondiale come Calvin Harris, Drake, Farrell, Justin Timberlake e tantissimi altri. Ricordiamo che Top Spin 2K25 sarà disponibile il 23 aprile in accesso anticipato e poi per tutti il 26 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X ed S e PC. Ed in prima posizione infine c'è Formula 1 2024, il gioco ufficiale del mondiale FIA di Formula 1 2024 Championship realizzato da EA Sports. Il tre volte campione del mondo in carica e pilota dell'Oracle Red Bull Racing Formula 1, Max Verstappen, ritorna come protagonista della copertina della Champions Edition. La copertina della Standard Edition invece raffigura tre dei volti più riconoscibili della griglia di partenza, Charles Leclerc della Ferrari, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e Lando Norris della McLaren. E da Fabrizio Tropeano di italiatogames.it per oggi è tutto. Grazie a tutti.